Il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto sapere con soddisfazione che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio che assegna le risorse per la tempesta vaia di questo autunno e il ristoro dei danni provocati. Stiamo parlando formalmente, dice il governatore Zaia, di 232 milioni di euro che stanno per entrare nelle casse regionali e che serviranno per dare respiro ai 350 cantieri che abbiamo previsto di attivare da qui a fine settembre cantieri per riparare parte dei danni della grande tempesta. Intanto in maltempo c'è uno stato di attenzione generalizzato, soprattutto nella fascia pedemontana, ma tanto per dirvi ricomparsa, ricompane questa sera l'acqua alta a Venezia. Il Servizio Maree del Comune ha previsto per le 23.30 un picco massimo di 120 centimetri. Si tratta di un episodio abbastanza raro per il periodo. Eventi mareali con valori superiori a 115 centimetri in aprile infatti si contano sulle dita di una mano. 147 nel 1936, 118 nel 67, 115 nel 79 e 117 nel 2009. Il Centro Maree fa notare però che negli ultimi anni la stagionalità degli eventi di Maree ha subito delle modifiche notevoli. Prendendo in considerazione il mese di aprile, negli ultimi decenni gli eventi superiori agli 80 centimetri, quelli con codice giallo, sono più che raddoppiati. Ricordiamo anche il fenomeno dello scorso ottobre, quando la marea ha raggiunto un picco eccezionale di 156 centimetri. Sicuramente nelle tristi classifiche degli incidenti sul lavoro c'è sempre, oltre all'edilizia, anche tutto quello che ha a che fare con il giardinaggio e con l'agricoltura. Sono in realtà delle attività molto pericolose e per questo si cerca di agire anche in prevenzione. La cintura La chiave non deve mai essere inserita Pochi ma indispensabili accorgimenti. Questo studente dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Padova in pochi secondi ci ha mostrato qual è il modo corretto per salire e mettere in moto un trattore senza correre rischi. Questi 20 alunni sono i primi testimonial di uno dei progetti della campagna di prevenzione agricoltura Crescere in Sicurezza, promossa dall'USL6 Eugane e dallo Spisal. 30 progetti che affrontano il tema della sensibilizzazione, della formazione informazione e dell'accompagnamento delle aziende alla percezione del rischio affinché si faccia soprattutto prevenzione. I 30 progetti di prevenzione rivolti alle aziende e ai lavoratori di tutti i settori produttivi sono stati finanziati dalla Regione Veneto. 9 milioni e 600 mila euro che sono il frutto delle multe che vengono date per problemi di sicurezza nella nostra Regione, ai varie imprese e quindi che vengono reinvestite in sicurezza. Sono state divise per le ULS, qui all'USL6 di Padova 1 milione e 600 mila euro per 30 progetti di formazione agli imprenditori. In particolare oggi siamo al Duca degli Abruzzi, qui a Padova, nel settore agricolo dove abbiamo il numero più grande di morti e di infortuni sul lavoro. Il settore agricolo è quello maggiormente colpito dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali per questo l'USL6 offrirà a 3.600 agricoltori lezioni formative e un kit di protezione con tute, occhiali e mascherine. Intanto per un giorno sono stati i ragazzi a mostrare agli adulti e alle istituzioni quali sono le buone pratiche per lavorare in sicurezza. La cosa importante è l'imbragatura che deve essere ben stretta per le vibrazioni e il peso dell'attrezzo. Questo deve avere uno sgancio di sicurezza in caso di incendio. Io devo mantenere una distanza di sicurezza di almeno 15 metri per le persone perché questo organo lavorante può scagliare sassi o altri pezzi di legno vicino alle persone e fargli del male. Quindi io devo mantenere una distanza, però devo proteggermi anche con la vigiera. Eh sì, ne so qualcosa se ho in mano quello a fare lì. Parliamo ancora di maltempo, aggiornamenti, perché la chiusura per neve di tutti i passi dolomitici in Veneto a causa delle precipitazioni in corso e il previsto peggioramento è scattato da poco. Questo lo ha deciso Veneto strade, quindi stiamo parlando naturalmente dei passi dolomitici, quindi montagna vera, non certamente in pianura la neve. Per quanto riguarda invece la sanità parliamo dell'ospedale di Mirano dove un nuovo cardiologo ora può lavorare grazie alla borsa di studio intitolata a Piero Pascotto. L'ospedale di Mirano ha un nuovo cardiologo grazie alla borsa di studio intitolata al Dottor Pascotto, progetto dell'Associazione Cuore Amico. Piero Pascotto è stato il nostro maestro, è un grandissimo cardiologo, un grande luminare, un uomo carismatico, professionalmente secondo a nessuno e che negli anni 85-90 ha fatto conoscere questa nostra cardiologia che è una cardiologia di un piccolo paesino di 10.000 abitanti ma che era il punto di forza del Veneto per quanto riguarda la cardiologia. Un territorio molto vicino al proprio ospedale e che cerca di dare il proprio contributo, il proprio aiuto anche appunto a forme di professionalità che sono appunto importanti quali quelle appunto della cardiologia miranese. Il nuovo medico è il Dottor Federico Mercanti, classe 1986 di origine romana che per lavoro ora risiede nel veneziano. La borsa di studio è dedicata ad un neo specializzato in cardiologia che con interesse specifico nel campo dell'emodinamica interventistica. L'emodinamica interventistica a Mirano viene diciamo fatta a 360 gradi. L'emodinamica di Mirano non si occupa soltanto di interventistica coronarica ma si occupa di interventistica carotidea, di interventistica vascolare periferica, di interventistica ortica per cui chi viene qui a Mirano ha la possibilità di spaziare a 360 gradi su quello che è l'interventistica vascolare in generale. La borsa di studio ha una durata di 12 mesi e l'associazione Cuore Amico insieme ai 17 sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese ha partecipato a istituire il contributo a favore del distretto di Mirano Dolo della Ulstre. Pascotto, naturalmente c'era un refuso in questo caso. Parliamo di mafia nigeriana, come sapete in alcuni centri urbani si è insediata, si occupa soprattutto di spaccio, di droga e è avvenuto infatti un arresto di un 34enne residente a Treviso, proprio ritenuto appartenente a un'associazione mafiosa nigeriana. È finito in manetto un 34enne nigeriano residente in via Pisa. Gli uomini della squadra mobile di Treviso e di colleghi della questura di Palermo questa mattina sono andati a prenderlo a caso e lo hanno portato nel carcere di Santa Bona. L'uomo, secondo la direzione distrittuale antimafia, faceva parte della Supreme Icon Fraternity, un sodalizio ben radicato in Italia e in Europa. Si tratta di un'organizzazione criminale nigeriana specializzata in furti e reati contro la persona. L'uomo, con regolare permesso di soggiorno, vive da qualche tempo a Treviso assieme alla compagna con Nazionale ed è titolare di un negozio di prodotti etnici in via Ronchese nel quartiere di Santa Bona. Secondo gli inquirenti rappresentava una delle principali ramificazioni della mafia nigeriana nella marca. La maxi operazione della direzione distrittuale antimafia di Palermo è scattata questa mattina in varie questure d'Italia. In totale sono state fermate 13 persone per sfruttamento della prostituzione. L'arresto del 34enne ha fatto subito il giro della città. Non ci aspettavamo un fatto così, commenta Enrico Renostro, ex consigliere comunale e residente della zona, anche se qualcosa di strano l'avevamo notato. Avevamo notato che c'era una scarsa affluenza di clienti, quindi ci si chiedeva un po' come potesse tirare avanti e anche degli orari di apertura oltre le 21, le 22, qualcosa, certo nessuno si aspettava una notizia di questa portata. D'altra parte questa operazione ci fa capire che il nostro territorio è ben monitorato e attenzionato dalle forze dell'ordine. I commercianti che hanno il negozio vicino a quello del 34enne sono stupiti, persona gentile e tranquilla dicono. Tranquilla e anzi non ho mai avuto niente dei problemi, salutare, buongiorno come va, lavoro come va, bene bene, basta. Ma si aspettava che potesse essere una portata del 34enne? No, no, perché non immaginavo neanche. Cioè poi la persona è a posto, vedete così dopo. Lo conoscevo come vicino di negozio. E che persona era? Perfetto, regolare, arrivederci, corretto, basta. Ho sempre visto la moglie dentro il negozio, lui che veniva la sera finito di lavorare, andava via, ma non ho visto gente che veniva, andava, tornava, non l'ho mai visti. Parliamo del momento fondamentale con il ristoro per i truffati delle banche, delle crack, delle ex popolari che è, come sapete, in consiglio dei ministri subito dopo la pausa. Grazie.